Armatevi di un cutter e di infinita pazienza! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Eh sì ragazzi, procuratevi un cutter, infinita pazienza e un foglio di carta e andiamo a sperimentare la Cut Paper Art Vi ho già fatto un video sulla Cut Canvas Art ve lo allego qui in pratica l'arte di intagliare la tela o la carta è creare degli splendidi disegni Io questo è un video che ho fatto per la Bobanni ma non ha alcun significato nel senso che potete usare qualunque tipo di carta abbastanza spesso il cartoncino per le fotocopie per intenderci andrà benissimo e poi potete lasciarla sia bianco naturale o colorarla come ho fatto io nel video Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa Ed eccoci pronti per creare il nostro piccolo quadretto intagliato Allora, cosa ci occorrerà? Un pezzo di carta della dimensione che vorrete Io ho deciso di fare una miniaturina da inserire in una cornicetta in carta creata da me che abbia un vano di alloggio di 12,5 x 12,5 x 12,5 x 12,5 x 12 In pratica inserirò questo qua dentro Come fare la cornicetta? Ve l'ho mostrato nel video con la farfalla Ve lo allego proprio qui nel box informazioni e io ho fatto una cornicetta quindi che avesse un vano 12 x 12 ci vengono delle carinissime cornici galleria molto carine Se volete un tutorial esclusivo per diversi formati di cornicetta fatemelo sapere che sarò lieta di farvelo Poi un pezzettino di carta da intagliare gli strumenti per intaglio che possono essere o un tagliabalze o un più sottile taglierino un cutter questo l'ho comprato addirittura da Tiger una matita e basta sì anzi è un piano da taglio ok? Poi ci occorrerà uno scotch spessorato e poi per rendere più artistico il nostro manufatto io voglio inserire anche del colore immesso da me userò degli acrilici degli acrilici magari metallizzati ma questi potete metterli di qualunque marca io li uso per la Bobbanni perché questo è un progetto che sto realizzando per loro cominciamo subito come prima cosa prendiamo un foglio di carta delle dimensioni che volete come prima cosa ripropongo il soggetto disegnandolo a matita nelle sue linee essenziali perfetto fatto il soggettino comincio a intagliare mantenere la forma data e togliere una leggerissima porzione di carta quindi creare il segno col taglio segno che deve essere super pulito quindi usate delle lame buone quelle di Tiger per esempio non mi sono piaciute invece questa vedete come ha fatto subito subito il segno bene adesso io intaglierò tutte le linee che ho definito in maniera tale da creare un disegno che mi soddisfi ragazzi è solo un lavoro di pazienza massima concentrazione perché qui ogni errore è fatale ok ho tagliato tutto adesso piano piano devo eliminare tutti i tratti della matita e adesso mettiamo in pratica la magia di questa tecnica prendiamo anche uno stuzzicadenti qualunque cosa ci permetta di arrotolare è una puntina quindi solleviamo la cosa importante è creare delle linee precise su cui piegare le nostre forme voilà uno quindi io con la riga o con uno stuzzicadenti o con quello che ho a portata di mano creo una base dritta alla base del taglio e poi modello con le mani faccio questo ovunque vi faccio vedere i pezzi grossi così che vi rendete conto fine del taglio fine del taglio ok prendo così alzo e piego dopodichè modello con le mani l'importante è che l'andamento sia quello giusto del taglio voilà da una parte e ovviamente anche dall'altra e faccio la stessa cosa con ogni singola parte del mio lavoro prendo uno stuzzicadenti perché avendo un taglio tondo non piegherà la carta ma semplicemente la tondeggerà e servirà così non mi non mi rovinerà così il lavoro guardate che bello non sembra vivo sembra un pesciolone che transita all'interno dell'acqua ora qui c'è il pattern acqua io adesso voglio dare un tono maggiormente vivido a tutta l'immagine quindi aiuterò la tecnica dell'intaglio con del colore userò un verde ottaneo e un rosa perlato il rosa per le ninfee il verde per il pesce pennellino della tintoretto 707 sintetico ambra e ripasso sulle mie forme più nitido ai bordi e poi vado sfumando bene la parte della pittoricità gestitevela un pochino come più credete io adesso metterò il rosa sulle ninfee e poi anche lì passerò dei toni d'argento ora applicherò il mio lavoro un po' in sospensione all'interno di questa cornice sotto però con la rimanenza dei colori andrò a tingere tutto di scuro così senza prestare molta attenzione a quello che sto facendo per far sì che traspaia un colore scuro e che leghi in qualche maniera con la mia piccola creazione a questo punto prendiamo dello scotch tagliamone dei bei pezzotti appiccichiamoli sul retro del nostro lavoro nei punti dove non c'è lavoro a traforo ovviamente eliminiamo la pellicola e voilà la nostra piccola creazione è pronta per essere esposta ora la centro meglio nel quadretto che con la fretta qui vedete è un po' decentrata ma non importa la stacco e la riappiccico con calma e noi ci vediamo dopo le foto ciao visto che è carino il risultato ci vuole molta molta pazienza ma poi pezzo dopo pezzo arrotolamento dopo arrotolamento distacco dopo distacco viene fuori una figura quasi 3D che sembra appunto in movimento in realtà è in movimento perché le ombre cambiano al cambiare della luce quindi trascorrendo il tempo quel manufatto assumerà sempre una forma diversa e un riflesso differente vedrete è un'arte stupenda ho scelto un soggetto che ho trovato su Pinterest mi pare moltissimo tempo fa giapponese perché secondo me proprio questa è un'arte da filosofia giapponese calma precisione meditazione concentrazione tutto conone ma alla fine un risultatone e allora se questo video vi è piaciuto intagliatemi un bel pollice in su condividetelo sulle vostre pagine facebook e soprattutto venitemi a trovare anche sui miei altri canali ombretta il mio canale di lifestyle beauty chiacchiera femminile e 2Q1K il canale di cucina che gestisco insieme a mio marito gabriele e lì le risate non mancano mai ma mi raccomando l'appuntamento principale è sempre qua per il prossimo video da ombretta ed arte per te è tutto vi voglio bene alla prossima volta ciao quindi ragazzi se il video vi è piaciuto intagliatemi un bel pollice in su con no intagliatemi già questo me lo sono intagliato abbastanza con la colla a caldo nel senso ritagliatemelo e fatemelo vedere appiccicandolo qua sotto poi condividete questo video sulla ma non vuoi dire dare un pollice in su no dai dillo no dillo e allora